e oggi adriano dove andiamo? dove andiamo oggi? bene vieni adriano ecco sui primi tiri della normale alla cima piccola di lavaredo che giorno è di ottobre oggi? ecco sui primi ecco sui primi bravo saluta la camera no Adriano, un missile eccoci arrivati sulla spalla tra la cima e l'anticima e qua vediamo il nostro Adriano in azione che anno adesso? dove siamo? e poi cosa ci aspetta? grande grande i tiri più impegnativi questo passaggio qua ah si? ho portato una corda grossa oggi Adriano dove siamo arrivati qua? grazie 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 ecco Adriano top cima piccola di Lavaredo bravo divertito di poche parole grazie 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 grazie